Applausi Continuiamo il nostro programma offrendovi alcuni brani di musica jazz. Quello che la fanfare si appresca ad eseguire è definito dalla storiografia musicale come il primo brano jazz che si è stato scritto in musica e inciso su disco. I bersaglieri sono sentimentalmente legati ad esso perché l'autore Nicola Rocca era figlio di un caporale trombettiere del terzo reggimento bersaglieri emigrato negli Stati Uniti. E quindi con un certo orgoglio che eseguiremo questa musica, tanto piacevole quanto diversa dalle nostre melodie mediterranee, ma oltremodo congeniale alla formazione strumentale della nostra fanfare. Ascoltiamo dunque il brano jazz intitolato Tiger Ray. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.